Allora, buongiorno a tutti ragazzi, sono Alessandro. Oggi parleremo un attimo di post exploitation. Cos'è la post exploitation? Partiamo un attimo dal pippone, che io faccio sempre su sta roba qua. Quando io incoraggio avevo il moccio al naso e la gente faceva il penetrations test, c'era una differenza sostanziale tra VA e PT. Fare un vulnerability assessment era trovare tutte le vulnerabilità su un target, tirarne fuori una lista, darla ai sistemisti e far sistemare. Fare un PT era sfondare quei sistemi, andare giù fino alla tana del bianconiglio e tirarne fuori tutto quello che era possibile fare. Al giorno d'oggi i nostri cari commerciali hanno trasformato l'andare giù fino alla tana del bianconiglio in un'altra cosa, che si chiama red teaming o adversary simulation. E il PT di solito si ferma a, ti ho sfondato la singola macchina, non ti sfondo l'azienda in toto, fino ad arrivare alla casella dell'amministratore delegato, per dire. Tutta questa parte qua, di quello che faccio dopo, che ho sfondato un sistema, quindi ci entro nel sistema, faccio privilegi escalation, guadagno privilegi di system, di root, e faccio altre cose, questa si chiama post exploitation. Tutto quello che viene fatto dopo l'exploitation. Che è solo l'inizio, perché diventare root o system su una macchina, e quindi acquisire i massimi privilegi di una macchina, è solo l'inizio. C'è tutta un'attività che viene fatta dopo, che è quella di spargere la propria penetrazione all'interno della rete, che viene fatta in modalità diversa, con differenti prospettive e differenti punti di vista. Cioè, ad esempio, come mi muovo all'interno dell'azienda, quali sono i target che devo sfondare piuttosto che altri, come faccio il management di tutti questi target rispetto ad altri, e secondo me è la parte più importante dell'EPT, perché è quella che vi porta veramente a cosa interessante. Cioè, magari voi sfondate un'oste in DMZ, però la ciccia veramente importante sta sul main server, ad esempio. E ovviamente chi vi paga non capisce di solito il report che viene dato al giorno d'oggi, quello dove c'è lo screenshot di un XSS, c'è lo screenshot di una CMD. Lui vuole vedere l'effetto reale, il rischio reale che c'è sulla sua azienda. Esempio, se andate lì, gli portate una bella presentazione, dove gli mostrate le mail che lui si scambia con la sua amante, che è la segretaria, questo capisce veramente l'impatto di una vulnerabilità di sicurezza, piuttosto che uno screenshot di CMD. Come si fa? Si fa con le solite cose che voi tutti conoscete, esempio, Metasploit, Metaerpreter, o anche dei tool commerciali, come ad esempio può essere Canvas, Core Impact, che costano anche un bel botto di soldi. Metaerpreter, che tutti voi conoscete, fa una cosa molto semplice, carica uno stager in memoria, fa l'injection all'INLL, stabilisce un canale cifrato TLS con la vostra console, e potete caricare delle estensioni per fare un po' tutto. C'è anche delle piccole estensioni per la post-exploitation, ad esempio quello per l'hash dump, per il dump dei token. È un tool che usate un po' tutti, almeno chi di voi fa Pt, ed è carissimo, è carinissimo, insomma, bello. Qual è il problema reale di questa cosa qua? Questo è un tool pubblico che tutti usano ad ampio spettro e con un grande pubblico. Però, dov'è il vostro dio in un IBM Enterprise? Dove le tecnologie di sicurezza che uno potrebbe avere in casa sono quelle? Vari tipi di strumenti di sicurezza che monitorano quello che voi fate a vari livelli, dal livello network al livello endpoint, e appena gli caricate una roba conosciuta la rete del SOC di questa azienda si illumina come Natale. Per cui, qual è il messaggio? Come voi lo sapete benissimo, la sicurezza informatica è una corsa alle armi. La corsa alle armi ci porta a migliorare le armi dell'attaccante, migliorare le tecnologie di detection dei difensori. Se non mi dite chi è il tipo io finisco qua e me ne vado. Sapete, vero? No, eh. Io attacco e carico batterie, però tra un po' come... Eh, che cavolo. D'altro pensateci. Chi è? Eh, che cacchio, cioè, se no me ne andavo, giuro che me ne andavo. Ok. Infatti, come Tony Stark, c'è gente che non fa PT commerciali, c'è gente che fa PT per interessi strategici. e chi fa PT per interessi strategici ha risorse diverse e metodologie diverse e anche obiettivi diversi dalle persone normali che lavorano nell'azione di sicurezza normale. Probabilmente hanno anche tool come ci suggerisce il nostro generale Mike Rodgers diversi. Cosa ne sappiamo noi di questa cosa qua? Ovviamente poco. finché è un bel giorno dell'anno scorso quando ancora ci si divertiva nell'internet perché c'era un sacco di lulz Shadow Brokers ha pubblicato un bellissimo link che si chiama Lost in Translation dove li trovate il link c'era un sacco di roba documenti di Swift varie cose e un sacco di tool un fottio di roba veramente veramente bella. due di questi Dunder, Spritz e FBunch adesso ne parleremo un po' perché sono i loro framework per sfondare le macchie in sostanza. Cos'è sta roba? Allora FBunch è l'analogo di Metasploit praticamente è una roba da command line per lanciare exploit. Dunder Spritz secondo me invece è il tool più carino che hanno è un framework di post exploitation cioè quello a cui viene passato controllo dopo. È una GUI scritta in Java N moduli veramente tanti scritti un po' in Python e un po' in un custom linguaggio di scripting che hanno loro ed è disegnato per fare operazioni di penetrazione strategiche e tattiche quindi totalmente diverso da quello che siamo abituati noi. E se voi vi guardate bene tutti i file del leak ne trovate alcuni con un change log e delle date abbastanza vecchiotte il più vecchio del 2001 praticamente loro hanno avuto tre versioni diverse di framework tre scritture diverse il più vecchio del 2001 quindi è una roba ben consolidata. Chi si ricorda in che anno Age di Moore ha rilasciato il primo metasploit pubblico che era scritto in Perla all'epoca? 2004 tanto per capirsi questi in 2001 già c'erano questa roba ok come vedete linguaggio di scripting custom per alcuni moduli un sacco di xml a livello descrittivo e loro praticamente hanno implementato il seguente workflow che gattini ci spiegano loro tramite fast bounce exploitation framework si caricano i loro exploit che per la maggior parte della roba che hanno e che era qua dentro erano tutti zero day cioè praticamente dalla pubblicazione di questo leak qua credo c'erano più di una quarantina di diffusione in vita zero day tra cui quella di WannaCry quindi exploit è una target sul target caricano un double pulsar che è un payload componibile multi architettura totalmente in memory estremamente reliable fatto per funzionare sempre che a sua volta carica l'impianto ad esempio vedi l'injection come fosse un interpreter in memoria per fare le vostre cose subito dopo viene passato il controllo ad under sprit che è il framework di management della vostra compromissione da cui voi fate le cose in maniera interattiva in maniera GUI tutto con una bassissima footprint sull'host tutto estremamente reliable cioè è roba industriale questa fatta testata con dei livelli di quality assurance per assicurarvi che su quel target con quella versione di patching funzionava tutto come? a livello operativo loro avevano implementato tutta una serie di cose totalmente diverse da quello che è metasploit perché ovviamente loro sono interessati alla sicurezza dell'operazione che svolgono in primis quindi ad esempio per ogni singola operazione avevano una copia di chiavi pubblica privata per stabilire la cifratura per quella singola operazione avevano un controllo dell'operazione a livello gestionale completo questo lo vediamo dopo avevano il concetto di repository un pochettino tipo quello del loot di metasploit però molto più avanzato nel senso il loot di metasploit prendete la roba la infilate lì e vabbè fate poco più questo faceva una correlazione automatica perché era fatto per gestire target da magari migliaia di host in cui dovete avere tutto automaticamente aveva addirittura un modulo di reporting fatto in modo tale che dai costrutti che voi usavate dalle note che voi inserivate veniva generato un text summary che secondo me era l'analogo del rapporto militare che viene scritto ogni giorno una cosa del genere in modo automatico quindi il concetto di sta roba è massima professionalità tutto industrializzato l'operatore non deve perdere tempo vediamo come viene il workflow che abbiamo visto prima prima cosa dopo la compromissione dell'host appena il controllo viene passato da undersprit parte in modo automatico un discovery molto leggero con un footprint veramente minimale per raccogliere da tutti i target che voi avete compromesso delle informazioni base quali ad esempio come è fatto il sistema operativo indirizzi IP WLAN menate drive montati drivers utilizzati software installati servizi se è presente un antivirso oppure no molto importante come è fatta la configurazione del sistema operativo quindi se c'è hardening se c'è auditing se c'è qualche configurazione in particolare perché quello potrebbe essere un sistema pericoloso a livello dell'operatore che si deve muovere file recente utilizzati usb stick inseriti menate varie gli script sono questi questo è uno script python è codice scritto bene cioè si vede chi scriveva lo fa di mestiere notare la funzione save danos perché anche loro sono simpatici e carini quindi nel codice scrivono un sacco che li cagate come tutti dopo il discovery nel caso l'host sia un host interessante si passa all'estrarre tutto il possibile da questo host ovviamente con tutte le tecniche di forense conosciute e l'utilizzo dei normali tool di forense tutti integrati nello strumento era possibile reperire certe informazioni tipiche quali la memoria dei processi parsare i file c'era del supporto applicativo alle singole applicazioni che sono comunemente installate nei nostri pc firefox chrome più punti bonus fragola analisi dell'mft e cosa molto carina segnalazione nel caso in cui fossero caricati dei driver o dei moduli kernel sospetti cioè sempre nella loro ottica di rimanere invisibili se trovavano un modulo un driver che poteva sembrare strano non diffuso gli compariva un archer attenzione qua magari c'è una tecnologia di monitoraggio sconosciuta stai attento a quello che fai più n altre cose che sono un pochettino quelle comuni che si fanno durante l'analisi forensi o di incident response cioè tutti i file recenti tutte le cose recenti utilizzate dns arp cache tutte le tecnologie come rdp o putti utilizzati probabilmente da quell'host per saltare su altri host screenshotting periodico del desktop appena uno si logga per vedere cosa accade key logging possibilità a disniffare sul cavo di lette crawling di token di sessione e password altri punti bonus fragola per supporto completo di sharepoint per cui possibilità in modo più o meno comodo e automatizzate di andare a indicizzare e scaricare dati dalle collection sharepoint e supporto ai vari database che potrebbero essere installati sulla macchina quindi oracle sql server eccetera tutta quella roba lì c'erano dei plugin per scaricare dei dati iniziali come la lista di db le prime 10 righe di ogni tabella per capire se dentro c'è una roba interessante oppure no eccetera eccetera quindi abbiamo capito cosa c'è sull'host step dopo vado a disabilitare le misure di sicurezza c'è un supporto per tutte i psp dell'epoca sia antivirus che dr e ovviamente tramite gli xml che c'erano sotto avevano tutte delle regasp per andare a capire cosa stava girando sulla macchina sopra sono gli script come vedete ci sono script eps roba custom ci sono gli script perl sotto c'è un xml c'è un altro python tecnologie varie c'è veramente tanta roba qua dentro disabilitato l'antivirus o l'edr si passa alla misura di persistenza in cui loro avevano dei tool di persistenza avanzati estremamente configurabili totalmente diversi dai vari listener che poterà avere metasploit perché questi lavorano con il concetto io devo essere invisibile per cui non è che apro la 444 o una reverse shell che è una connessione permanente questi hanno una reverse shell che casomai può ascoltare solo a una specifica ora o solo tramite porto knocking delle callback asincrone per cui la macchina fa le cose batch che voi gli avete programmato a fare dopo un certo punto una certa ora magari vi manda via i risultati tutti in un blocco in modo da fare meno il traffico possibile ovviamente ah vai il supporto proxy solo i tool sfigati non hanno il supporto proxy appena vengono lanciati su una rete enterprise si schiantano su un tool file e venite beccati subito come vedete mentre voi configurate questa roba lui in modo interattivo vi fa certe domande voi gli rispondete e poi lui realizza la persistenza sul target dopo la persistenza vi dovete muovere sulla rete che avete appena sfondato anche qua sempre nell'ottica dell'invisibilità non è che voi come un po' siamo abituati noi entrate su una macchina iniziate a fare un map full dall'1 a 65.000 passi sotto la rete interna e magari tirate anche giù il sistema di logging dei firewall perché non sono abituati a vedere così tanta merda loro facevano cose molto molto selettive avevano degli scannerini esattamente mirati per quello che poteva essere l'eventuale esposizione che loro magari rilevavano tramite l'acquisizione dei dati che avevano appena fatto della rete interna quindi facevano meno traffico possibile ovviamente usavano le credenziali da loot che avevano già enumerato sempre in maniera intelligente nel senso che ci c'è la possibilità però non è disegnato per fare una cosa del tipo piglio la mia lista di credenziali che è enumerato e le sparo sotto gli ossi della rete veniva fatto tutto in modo selettivo c'era anche la possibilità di fare pivoting tramite le scena amministrative c'era un tool apposta per fare questa cosa qua e tutto questo poteva essere lanciato tramite schedule task per cui voi entrate fate il lavoro dopo una certa ora parte tutto in modo pianificato tutto quello che vi ho mostrato sta sotto un concetto bellissimo che si chiama quello di safety handler cioè lo sa bene chi è chi ha fatto pen test in un team magari c'è la figura senior che ne sa pacchi perché scrive exploit da 20 anni però c'è anche il junior appena arrivato che voi lo mettete a fare un pt e magari fa cose che non dovrebbe fare magari vi spegne la macchina target perché ha sbagliato credeva di essere sulla sua e aveva spento il server del cliente capita se fate un'operazione tattica queste cose non devono succedere punto per cui loro hanno creato questo concetto di safety handler per fare in modo che gli imbecilli non lo siano poi così tanto cioè ci sono dei costrutti selezionabili dal manager dell'operazione per dare dei privilegi tramite una specie di ACL agli operatori che ci lavorano cioè quell'operatore lì può ad esempio inserire una chiave nel registro può iniettare delle DLL può droppare un file su file system perché di lui mi fido so quello che deve fare gli altri non lo possono fare e così si mettevano in sicurezza la loro operazione addirittura da loro stessi tanto per dire il livello di sofisticatezza di questi tool qua esempio di safety handler vedete allora python xml script custom qua esempio per disabilitare Kaspersky bisogna andare a toccare il registro lì c'è uno specifico costrutto che richiede un privilegio particolare per andare a toccare il registro non solo ci sono dei costrutti particolari ad esempio per controllare il load della cpu certe operazioni potrebbero portare sul load della cpu non solo se ci vuole un privilegio per farle ma il load della cpu è costantemente monitorato come anche l'utilizzo della memoria eccetera quindi tanta roba come potete giocare con tutto questo perché immagino che vi ho fatto ingolosire c'è un sacco di altra roba purtroppo in 20 minuti scarsi non ve la posso raccontare tutta questo è un leak da n000 file un quintale di roba va veramente vista e provata per provarla un ragazzo si è messo con un sacco di pazienza ha fatto un progettino di github bellissimo che vi permette di creare un laboratorio per giocare con questa roba quindi tramite packer e vagrant ha fatto uno scripettino che voi in tre comandi netti lanciate nel vostro sistema lui si collega scarica le iso di windows evaluation 2008 di windows 7 ve le scarica ci fa girare tutto lo scripting crea un controllo del ridominio una macchina target vulnerabile e una macchina windows 10 su cui installa dunderspritz con cui voi ci potete giocare quindi vi realizza quello che c'è sotto una mini LAN target di un dc e un target e la vostra vm con dunderspritz dove potete giocare questo è veramente bellissimo purtroppo che c'è una sola pecca windows 7 sul sito microsoft non c'è più lui non ha mai aggiornato gli script perché sono vecchi di un anno e passa per cui voi dovete un attimo mettere voi a manella a sistemare lo script è una roba veramente da poco vi scaricate la iso di windows 7 a mano e modificate lo script per appuntare a quella facile facile giocateci se avete tempo perché è veramente bello vi richiede 20 gigi di ram di memoria 12 di ram credo è un bel giochino da tutto ciò al di là della figaggine di questo tool perché tanto adesso il tool è licato per cui è tutto bruciato ok viene rilevato da ogni tecnologia di sicurezza che uno può avere loro avranno iniziato a lavorare su altra roba non lo so però cosa abbiamo imparato che loro hanno delle pratiche dovute alla disponibilità di risorse che loro hanno alla sensibilità dei target che devono sfondare alla modalità tattica e operativa che usano totalmente diverse che ci lasciano dei suggerimenti prima fra tutti quando facciamo queste cose non rallentiamo la macchina loro facevano un controllo estremamente granulare del load dei sistemi per essere sicuri che nessuno si accorgesse di niente limitavano e diluivano il traffico di rette perché ovviamente se voi che ne so durante il pt sfondate una macchina dovete portare via un dump di un db di 100 giga quella è una macchina che di traffico ne faceva magari 100 mega al giorno verso internet 100 giga diventate il primo top talker nel report del giorno dopo i sistemisti dicono che lo sta succedendo loro non droppavano quasi mai files cioè tutto quello che era tecnologicamente possibile far girare in memoria facendo girare in memoria per droppare files ci voleva un safety handler con il permesso del manager tutto era cifrato tutto possibile con chiavi singole specifiche stavano sul target almeno possibile perché voi tramite dunder preparate l'operazione preparate i comandi poi fate play quando volete o anche lo schedulate insomma facevano tutto il possibile per rimanere invisibili esempio di sta roba allora a sinistra c'era la possibilità di fare trotting del traffico di rete quindi praticamente qua questo è l'xml descrittivo loro tutti i plugin li descrivevano con degli xml byte per second file trotting del traffico in uscita da quei plugin poi sotto c'è keep alive perché questo è un comando vedete vi dice exploit is estimated take a piece long quindi se l'exploiting va lungo c'è keep alive per vedere se il sistema è ancora su tutto in modo automatico sopra ultime tre righe monitoring di spazio disponibile memoria ram quindi alla fine il mondo vero è diverso perché lavora su una prospettiva totalmente diversa c'è un sacco di roba privata che gira perché vi assicuro scrivere questo codice è un'impresa terribile che probabilmente è stata fatta non dalle persone di sicurezza ma da sviluppatori di professione che lavoravano fianco a fianco con le persone di sicurezza infatti se voi guardate il codice alla fine codice pulito trovate qualche instant egg ma è pulito c'è scritto da professionisti e non conta soltanto l'attività tecnica ma conta anche management questi facevano un sacco di management cioè la gran parte del tool serve a gestire l'operazione e non a farla a gestire la propagazione a gestire gli stessi operatori dell'operazione per cui alla fine secondo me le tau cioè quelle che sono operazioni tattiche fatte da nazioni verso obiettivi strategici che può essere qualsiasi cosa per quello che intendiamo noi sono totalmente invisibili a un blue team nel senso che la foot print è minimale fatta l'operazione c'erano anche tutta una serie di plug-in per pulire e ovviamente in modo selettivo cioè non è che pulire voleva dire cancellare i log perché se è entrata una macchina dove il log è vuoto già qualcosa che non va cioè loro facevano tutto in modo selettivo le linee di log generate da loro venivano cancellate solo quelle e soltanto quelle per cui un pochettino un altro mondo che di solito chi fa pt normalmente non è abituato non solo a vedere perché questo ovviamente è un mondo invisibile ma a pensare cioè chi fa pt nel mondo commerciale pensa di essere lì in terra cioè arrivo lì prendo il metasploit sfondo il cliente che tanto è comunque sbraccato con le braghe calate quindi sono il più figo del mondo cioè tu è il più figo del mondo uso metasploit ho visto il tutorial l'ho applicato questo è un mondo totalmente differente anzi probabilmente sono loro che ridono quando vedono noi che andiamo alle conferenze a parlare di metasploit o di qualsiasi altra cosa e secondo me è importante saperlo è un attimo abbassare le ali e capire che si può fare ancora di più ok probabilmente è quello che viene fatto di più nel mondo non solo da operatori tipo national state ma anche da enti privati perché poi alla fine le aziende quelle serie che fanno pt in modo serio i tool non è che li pubblicano se li tengono privati è totalmente diverso e io avrei finito prima delle domande vi lascio due link perché in realtà questa è una seconda presentazione che ho fatto sulla post exploitation è la seconda parte la prima parte la trovate al primo link al secondo link invece trovate queste slide qua se avete domande vai beh in atto io bevo ti è capitato di trovare qualche pezzo di questi di cui ci hai parlato in giro di qualcuno che magari li aveva preso un po' e li aveva messi in produzione in che senso li aveva messi in produzione cioè che magari durante qualche analisi che hai fatto hai trovato che qualcuno aveva già messo una zampa dentro utilizzando decisioni modificate di questo questo leak qua siccome teneva tipo più di 40 zero day ha generato tutta una serie di cose esempio WannaCry perché c'erano qua dentro almeno tre exploit quello per V1 e altri due per SMB piatti piatti brutali per cui ha generato tutta una serie di cose che sappia io subito dopo il leak nessuno ha pubblicato affermazione del tipo abbiamo trovato questi IOC per dire sui nostri sistemi anche perché comunque ricordate che il leak è avvenuto l'anno scorso però qua dentro non è che il tool è aggiornato a sei mesi prima è roba più vecchia per cui probabilmente nell'immediato gli IOC sarebbero stati totalmente diversi probabilmente questa qua è magari anche una versione vecchia nel senso che nel momento del leak l'anno scorso la versione del framework che usavano non era questa era un'altra con un altro nome io che sappia io nessuno ha pubblicato nulla a dire oddio Dio IOC io ero no perché tanto questi uno lavorano in modalità estremamente silente e invisibile prendono fanno cancellano chiudono tutto non è che stanno lì hanno un obiettivo una flag secondo me e loro preso la loro flag non rimangono più di tanto sui sistemi magari una backdorina o un modo di entrare se lo lasciano però di certo non facendo parte di questo framework qua e se avete visto quella tipo tag cloud che c'era prima ognuno di quei nomi lì era un progetto che era incluso in questo leak qua ok ed erano tutti dei progetti per una categoria di operatività estremamente limitata che non solo era pen testing ma era ancora più specifica era exploitation e post exploitation ok per cui per così poco hanno leakato così tanto chissà per il resto altre domande domande la fase di impianto che basandosi su Eternal Blue diciamo sfruttava benissimo SMB1 c'erano altre piattaforme altri sistemi operativi oggetto dell'impianto oppure Microsoft era l'unico la piattaforma cioè il framework era multipiettaforma negli exploit contenuti nel leak c'era un exploit anche per altre tecnologie magari non come Eternal Blue però c'era un exploit anche per altre tecnologie la piattaforma è fatta in un modo multipiettaforma per cui lì secondo me sarebbe stupido dire che non avevano per altre piattaforme perché ce l'hanno quelli commerciali cioè se voi comprate Core Impact o Canvas avete exploit che vanno da i vecchi Unix alle vecchie Solaris anche le nuove Solaris se voi comprate qualsiasi pack di exploit che viene venduto su internet c'è un po' di tutto per cui sarebbe veramente ridicolo dire che non c'era prova per la destina operativa magari non come quella che ha portato WannaCry ok grazie grazie grazie